Un novembre festival ICT con Luca Cavobianchi di Eolo che ci racconterà una componente non banale della connessione, il wireless, questo sconosciuto. Quali sono le caratteristiche e le particolarità delle tecnologie wireless che utilizzate per i collegamenti a banda larga? Sì, Eolo fornisce connettività internet a banda larga e lo fa sotto il cappello delle aziende che forniscono connettività wireless fissa. E quindi con esse condividiamo essenzialmente le caratteristiche fondamentali. I nostri punti di accesso alla rete infatti non sono altro che tipicamente tralicci per le telecomunicazioni, su cui andiamo a depositare delle radio che illuminano il territorio circostante. E andiamo a distinguere in due tipologie di accesso quando si tratta di banda condivisa o di banda dedicata. Le tecnologie di accesso a banda dedicata arrivano fino a 30 megabit in download, quindi parliamo di banda ultra larga, e fino a 6 megabit in app. In questo caso la radio che andiamo a depositare sul traliccio non è altro che un settore che abbraccia sotto il suo ombrello un certo numero di clienti che vanno a condividere pertanto la risorsa radio disponibile. Chiaramente la cosa importante è garantirgli sia i livelli di servizio acquistati, in termini di velocità, quindi dicevo fino a 30 megabit in download, ma anche e soprattutto garanzie di banda. E questo lo facciamo grazie a un protocollo sviluppato internamente che si chiama EOLO-Wave. L'altra tipologia di accesso è quella a banda dedicata, dove invece sul traliccio andiamo a mettere una radio assolutamente dedicata al cliente, creando una sorta di filo in aria che ci permette di raggiungere velocità decisamente più elevate, fino a un gigabit simmetrico e garantito al 99%. È possibile confrontare le vostre tecnologie con quelle tradizionali quali i cavi e fibra? Sì, assolutamente. La nostra gamma di prodotti va a rispondere proprio alle esigenze di quelle aziende che fino ad oggi si sono potute riferire soltanto alle tecnologie su rame e in questo caso proponiamo il nostro modello di accesso a banda condivisa e quindi ADSL, SHDSL e VDSL vengono assolutamente indirizzati da questi nostri prodotti, fino ad arrivare a competere con il mercato che adesso è presidiato esclusivamente dalla fibra e lo facciamo con le nostre connessioni a banda dedicata, che si chiamano EOLO-Top, che raggiungono le stesse prestazioni della fibra. Rispetto alle aziende a cui vi rivolgete, quali sono i settori di riferimento? La nostra ambizione in realtà è quella di riuscire a coprire tutte le esigenze, dalla piccola azienda e quindi dalla partita IVA individuale fino alla grande azienda con centinaia di dipendenti ed è quello che stiamo facendo con successo e con soddisfazione da diversi anni.